Buongiorno e benvenuti alla Resegna Stampa di oggi venerdì 3 novembre 2017. Qui su Fanotv come tutte le mattine c'è la lettura dei giornali e cominciamo con il santo di oggi. La Chiesa ricorda e lo vediamo con il cartello San Martino de Porras, è stato un domenicano, un grande devoto dell'Eucaristia. Il sole è sorto alle 6.45 e tramonterà alle 16.58. Il tempo previsto per oggi dalla protezione civile, oggi sono previsti deboli ed isolati fenomeni più probabili nelle zone dell'entroterra. Domani temperature senza variazione di rilievo, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso con nuvole stratificate. La giornata di domenica, come abbiamo già detto qualche giorno fa, ci sarà possibilità di pioggia soprattutto nell'entroterra, invece la mattinata sarà nuvolosa su tutta la costa. Dal pomeriggio prevista appunto deboli precipitazioni sparse ridosso dei rilievi, precipitazioni isolate invece altrove. Le temperature sono senza variazioni di rilievo. Probabili condizioni di tempo instabile anche nei primi giorni della prossima settimana. Il Corriere Adriatico, il giornale delle Marche, Halloween, che scherzetto, stop alla droga delle feste. La polizia di Pesero sequestra cocaina e marioana, due giovani spacciatori sono finiti in manette. Era la droga destinata allo sballo dei festeggiamenti di Halloween. era tutto pronto, tre etti e mezzo di cocaina, oltre un chilo di marioana, ma gli uomini della squadra mobile della questura di Pesero hanno bloccato tutto alla fonte. Due gli spacciatori presi a Pesero che avrebbero a loro volta rifornito altri pusher, altri spacciatori. A Pesero è tutta un'altra musica. La foto di gruppo è per il riconoscimento dell'UNESCO e arriva anche il ministro Franceschini. Il sindaco di Pesero Matteo Ricci annuncia celebriamo il nostro orgoglio. La pagina di Fano del Corriere Adriatico, con l'esclusiva di una notizia di cronaca, tenta di rubarle la collana d'oro, ma l'ottantenne si divincola. Nel quartiere di San Lazzaro fallisce il furto dell'abbraccio. Amarotta invece è stata derubata di ori e perle una pensionata. Il colpo è andato a segno, ha sfruttato la disponibilità a far entrare in casa la sconosciuta per offrirle un classico, il classico bicchiere d'acqua. Tutti i particolari nella notizia pubblicata solo sul Corriere Adriatico e che porta la firma di Jacopo Zuccari. Poi un'altra notizia interessante, tutta da leggere, c'era uno squalo bianco a 300 metri dalla riva di Fano. Tre fratelli in barca lo incrociano a Sassonia e raccontano che era lungo 4 metri, quindi uno squalo di grandi dimensioni. L'incontro che non ti aspetti è stato fatto ieri mattina da tre fratelli fanesi, fratelli Gasparoli, appassionati di pesca subacquea. Andrea Maduzzi ha raccolto tutti i dettagli che potrete leggere acquistando il Corriere Adriatico di questa mattina. Una bella cerimonia toccante, quella di ieri mattina del Vescovo di Fano Armando Trasarti al cimitero centrale. Elogio all'eroismo ordinario, dobbiamo saperlo narrare. Celebrazione per i defunti, il Vescovo parla della morte e delle lacrime dell'amore. Trasarti è invitato a dire grazie alla gente comune che con fatica fa il proprio dovere. Un bel resoconto di Lorenzo Furlani sul Corriere Adriatico di questa mattina, la pagina di Fano. E poi un'altra esclusiva del Corriere Adriatico, una notizia che potrete leggere solo qui e non sul resto del Carlino. L'urto tra autovetture durante una svolta a sinistra con successiva carambola. La frazione di Bellocchi è stata testimone ieri di uno spettacolare incidente stradale che si è verificato intorno alle 12.45. E anche qui tutti i dettagli nel Corriere Adriatico di questa mattina, la firma di Massimo Foghetti. Poi a pagina 42 invece Festival DOP, eccellenze per il palato e la mente. Domani al via l'evento dell'olio e dell'oliva a Cartoceto con un grande palcoscenico dell'oro verde. Comincia questa grande iniziativa che si svolgerà in questo bel comune perché Cartoceto, adesso dobbiamo dirlo, è veramente un bellissimo paese incastonato tra le colline dell'entroterra ed è un paese d'incanto. E Cartoceto è quel paese che ha l'ADOP, l'origine protetta, denominazione di origine protetta dell'olio, dell'oliva, che quest'anno è andata anche molto bene. Prodotti tipici in mostra accanto ad un ricco programma culturale. Domenica c'è anche Fabio Concato, il cantautore. Poi invece a Fano il premio Volpini verrà consegnato lunedì dal giornale Il Nuovo Amico a Giusi Versace, campionessa paraolimpica. Guardate, vedete questa ragazza non ha le gambe, ecco qua. Questa è una campionessa paraolimpica, scrittrice e anche autrice e verrà premiata con questo riconoscimento da parte del giornale delle diocesi di Pesaro, Fano e Urbino. Per la voragine di Orciano, la voragine della polemica adesso diventa al vetriolo, la minoranza di terre roveresche lamenta il mancato ringraziamento all'ex sindaco Maurizio Cionna, che oggi è capogruppo all'opposizione. Abbiamo il compito di controllare e suggerire correzioni alla giunta. I cacciatori di manga, parliamo di cartoni animati, quelli di una volta, che adesso non ci sono più, sono stati sostituiti da discutibili, seppur belli da vedere, ma discutibili soprattutto nei contenuti, cartoni animati. I cacciatori di manga perduti stiamo cercando doppiatori. Il marottese Angelo Serfilippi vuole recuperare nove episodi di Sekai non esistenti in italiano. Anche qui è un articolo tutta legge interessante, magari se qualcuno di voi vuole cimentarsi nel fare doppiatore, insomma può farlo, tutti i dettagli sul Corriere Adriatico di questa mattina. Urbino, la pagina di Urbino, la Madonna di Santa Chiara per realizzare un sogno. L'Onday a lavoro per riportare nella città ducale l'opera attribuita alla giovane Raffaello. Giorgio Londay, fondatore di Urbino Capoluogo, dice chi non crede a queste ipotesi legga il libro di Anna Fucili. Tagliolini, il presidente della provincia, Rosatellum imbevibile, il presidente non può candidarsi, il numero uno della provincia ci sperava, però purtroppo la nuova legge elettorale è destinata a franarne le ambizioni. E poi c'è la notizia dei nuovi prefetto e questore che arriveranno prossimamente a Pesaro, Cincarilli e Lauro. Ecco le fotografie pubblicate sul Corriere di questa mattina. Dunque la notizia è che cambieranno il prefetto di Pesaro e il questore ed hanno sicuramente una bella scossa istituzionale. Nel waltzer dei prefetti è arrivato il turno di Luigi Pizzi. Ora è ufficiale, il prefetto lascerà Pesaro, destinato ad altro incarico e al suo posto verrà una donna, la prima donna, Carla Cincarilli, sposata con due figlie e nata il 31 maggio 1952 e prefetto a Mantova dal 2013. Anche la questura cambia, un po' sorpresa direi questa volta. Antonio Lauriela è stato destinato alla direzione centrale risorse umane e al suo posto arriva Adriano Lauro, dirigente del compartimento di polizia ferroviaria di Napoli. Corriere Adriatico di Senigallia. In comune non esistono auto blu e niente autisti, guidiamo da soli. L'amministrazione taglia le spese. Il sindaco di Senigallia Mangialardi dice io giro spesso con la mia multipla a metano. La ibrida dell'ente, pizzicata in divieto da Paradisi, era ferma per un guasto, dicono. Municipio imbrattato forse è stato un avvertimento, il raid con le scritte e gli insulti dopo le segnalazioni dei dipendenti alla polizia. Ancora da Senigallia questa credo che sia doppia, eccola qua. Allora, andiamo adesso sulla pagina 49 con la cronaca. Operai al lavoro come schiavi, fabbriche cinesi sotto assedio, blitz della polizia e dell'espettorato del lavoro, nel mirino un laboratorio e due attività artigianali. Cinque cinesi lavoravano in nero, in precarie condizioni di sicurezza, per realizzare abiti invernali di famose griff. A mettere fino al loro sfruttamento è stata, a mettere in sigille, è stata la polizia che è intervenuta in un laboratorio della zona industriale di Cesano, poi sequestrato. La pagina di Falconara, velocemente, assalto alla colonia del distributore, cassaforte sradicata con l'escavatore e poi la nuova pagina del Corriere Adriatico, ve l'avevamo annunciata, oggi è il 3 di novembre. Eccola qua, la nuova pagina di Cattolica Gabice, porto da Incompiuta Risorsa a Nuovo Molo entro l'estate 2018, mentre la pagina di Tavuglia, Valconca, è per la banca Valconca che la notte dei 5 mila il vero capitale sono gli azionisti. Andiamo adesso invece sul, anche questa è una novità, d'accordo con il direttore Mazzoli del Nuovo Amico che come sapete ha avuto un restyling quotidiano completamente rinnovato ed è gratuito, lo trovate nelle parrocchie oppure potete anche sostenerlo, ed è il caso, con gli abbonamenti. Tra l'altro credo ci sia anche un'iniziativa che per tre mesi vi arriverà a casa anche il avvenire, tranne sabato e domenica. Allora, vediamo il titolo d'apertura del Nuovo Amico di questa settimana. Eccolo qua, oggi è un grande dono, il premio giornalistico Volpini sarà assegnato a Giussi Versace il 6 novembre al liceo Torelli di Fanolo, di 6 novembre alle ore 9.30 nell'aula Magna del liceo. Il resto del carino di Pesaro, la prima pagina, droga per le streghe, due arresti tra cui un'insospettabile ragazza per spaccio, la polizia sequestra quattro etti di coca, più hashish prima della notte di Halloween. Questa è la foto in primo piano. Poi, sanità. Andiamo a Urbino. I sindacati sono in rivolta, domani presidio di protesta davanti all'ospedale di Urbino. Si chiede il potenziamento e più posti letto. Poi, il nodo dei migranti al Carducci, al parcheggio. Gli abusivi non sono una priorità. Altre proteste degli automobilisti. Multe e controlli non bastano. Le accuse di Dall'Asta. E poi, oculistica. Oculistica boom di interventi raddoppiate al Santa Croce di Fano, dopo che Marche Nord ha concentrato proprio le attività nella città della Fortuna. Giacomo Pellegrini, lo vedete nella fotografia, è il primario del reparto fanese. Soccorso in mare soppresso da Marotta. L'annuncio del presidente della Croce Rossa, Luciano Seri. Critiche su 100 operatori hanno pagato solo 40. E poi, il cambio di poltrone, che abbiamo visto anche sul Corriere Adriatico. Luigi Pizzi lascia Palazzo Ducale. Il nuovo prefetto viene da Mantua. L'ultimo, la famosa circolare con cui vietava ai residenti di fotografare i profughi, è stata, diciamo, forse anche la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Insomma, una lunga coda di scontri tra il prefetto, soprattutto, e alcuni sindaci. Halloween, con effetti stupefacenti, arrestati una barista e un trentenne. La ragazza pesarese incensurata aveva in casa quasi tre etti di cocaina. Poi, lasciatemi in questa casa, l'abusivo di via Cattaneo ha perso una gamba, però c'è uno sfratto in arrivo. Io voglio pagare l'affitto, ma il comune non accetta. Mi resta poco da vivere. E' quello che chiede appunto questo signore, panfilo imperatore, nella casa di via Cattaneo a Pesaro. La pagina di Urbino, eccola qua. Da dicembre una svolta per la cultura. Giuseppe Balduini, con l'aiuto di Sgarbi, alla Galleria Albani. Tante belle mostre in programma. E l'ultima pagina è quella di Fano, con la richiesta del Vescovo. I parrocchiani preghino anche per i sacerdoti. Tra sarti i giovani riscoprano il valore dei cimiteri. Bene, è tutto per la rassegna stampa di questa mattina. Vi ricordo al 338 49 68 250 potete inviarci le vostre segnalazioni, che come sempre sono numerose. E sono per noi della redazione molto, molto preziosi. Grazie davvero di cuore per la vostra collaborazione insieme a noi. Noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Vi auguro una buona giornata e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti.